Nel campionato di Serie B Piacenza è stato battuto dalla capolista Noceto, non c'è stato proprio niente da fare? Ma qualcosa da fare c'era, abbiamo inseguito la partita per tutti gli 80 minuti, purtroppo non siamo riusciti proprio per anche poco, diciamo, vista la differenza di scarto del risultato, a raggiungere Noceto. Se ci fossimo riusciti portavamo come minimo a casa tre punti se non quattro. Questo quarto posto vi soddisfa? Io sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno invece del bicchiere mezzo vuoto. Quest'anno il progetto che è stato fatto con l'allenatore era quello di arrivare ai risultati tramite il gioco. E questo è molto importante perché non è così semplice dovendo amalgamare una squadra dove ci sono i senatori, chiamiamoli così, cioè quelli che ormai hanno già una certa età, una certa pratica, anche una grossa esperienza se vogliamo nell'ambito rugbystico e tutti i ragazzi che sono usciti dall'Under 20 che effettivamente in situazioni come queste è stata un po' la dimostrazione anche di questa partita, subiscono la differente esperienza dell'avversario. Un'ultima cosa, Piacenza Rugby ha rischiato di sparire, il suo impegno l'ha salvato, almeno di questo si è soddisfatto, è stato un grande traguardo raggiunto. Sì, diciamo che tre anni fa ci siamo trovati in una situazione notevolmente difficile, devo dire che tutti, cominciare dai giocatori, si sono rimboccati le maniche e siamo riusciti ad andare avanti, non solo ma migliorando una cosa che non si vede sul campo ma che per me è molto più importante che è la vita del club, per cui adesso la gente è molto più legata, partecipa alla vita del club, la clubhouse funziona, la gente si trova e siamo ancora per la strada, non lo posso considerare certamente un punto di arrivo. Se il Piacenza ha ceduto al noceto 22-29, in Serie A la banca Fannese Lions ha piegato il Cus Verona 21-14, hissandosi al terzo posto a 10 punti della Capitoline e a 5 della Prorecco. Rispetto ai Romani, i bianconeri hanno giocato due partite in meno, rispetto ai Liguri una. Grazie!